Sale la febbre dei tifosi per la partita su tiro al Padova che sabato prossimo potrebbe decidere la promozione in Serie B. Da Padova partiranno almeno 1500 tifosi con il biglietto dello Stadio di Bolzano che però si sta rivelando inadatto ad accogliere le tantissime richieste. Ma gli Ultras non ci stanno e invitano tutti i tifosi ad andare a Bolzano, reclamano altri biglietti e ipotizzano anche di stare in massa fuori dallo Stadio a cantare. E' tutto, me va bene? E chissà che vada veramente bene. Buongiorno mattino. Grazie.